Una spiaggia storica dove sono cresciute intere generazioni e intorno alla quale c'è un porto eccezionale. La rupe, icona della città, è una serie di attività ricettive e non solo, è totalmente abbandonata. Continuamente ci sono proteste di turisti, operatori turistici, semplici cittadini, per l'abbandono in cui versa. Bisogna presto intervenire per restituirla ai suoi antichi splendore. La coreografica scenografia che la circonda, lo straordinario porto e le attività marittime che vi soggiornano sono penalizzate dall'off limits derivato dall'incuria del comune e di un'amministrazione priva di sensibilità e dall'incapacità di poter risolvere il problema, nonostante studi e proposte fatte da imprenditori e privati cittadini che hanno cercato di sensibilizzare i politici arroccati sulle loro posizioni.